Ora Napoli già da mesi è diventata una capitale del turismo, una capitale internazionale del turismo perché voglio sottolineare che insieme con tanti italiani stanno arrivando tantissimi stranieri molti di più rispetto all'anno scorso, il 60% in più circa rispetto all'anno scorso di presenze di stranieri. Naturalmente la coincidenza con lo scudetto ha fatto sensibilmente aumentare queste presenze sia perché i tifosi provenienti da tutta Italia si sono riversati qui anche solo per assistere alla festa e quindi è da domenica che poi si aspetta questa festa e sia perché molti turisti hanno approfittato della coincidenza della festa per scoprire le bellezze della nostra città. Quindi da dopo il ponte del 25 aprile che è stato già pieno, è stato un ponte record, abbiamo avuto 400 mila presenze, oltre 400 mila presenze nella nostra città. Gli albergatori ci dicono che c'è stato un incremento del 30% dei pernottamenti, quindi di occupazione delle stanze, è stato molto più significativo nell'extralberghiero, però anche nell'alberghiero c'è un incremento. E devo dire che si rafforza non solo l'immagine di Napoli, ma la realtà di Napoli turistica. Siamo passati dalle due notti di pernottamento del 2019 alle quattro notti e mezzo del 2023. Noi abbiamo voluto dare una risposta di crescita e rafforzamento dei servizi al turista, perciò abbiamo aumentato il numero degli infopoint, li abbiamo messi nei luoghi di maggiore flusso, abbiamo aumentato il numero dei bagni pubblici mobili che sono stati collocati per la prima volta a Napoli l'anno scorso, a dicembre scorso non c'erano mai stati, quest'anno li abbiamo aumentati, abbiamo chiesto, scelto 30 tutor, i ragazzi che accolgono i turisti e che in particolare adesso nelle zone che sono appetite dai tifosi, svolgono il loro ruolo, hanno una presenza assolutamente amichevole, assolutamente utile e indispensabile per i turisti.